Il bambino era incosciente, sdraiato a terra, il papà ha iniziato subito con il massaggio cardiaco. Ho informato la mamma che gli avrei mandato un sms contenente la possibilità di un link e in questo modo avrei potuto vedere dalla centrale operativa le immagini di quello che stava succedendo. Io ci tengo a citare che senza l'aiuto di questa nuova tecnologia sicuramente Patrick oggi non sarebbe qui fra di noi perché l'intervento è stato tempestivo e io credo che in questi casi sia importante la tempestività. Perché dobbiamo spiegare come abbiamo visto, voi avete usato un'applicazione che lui vi ha inviato questo link e attraverso questo link con la telecamera lui vi ha guidati. Se non ci fossi stata la videochiamata come sarebbero andate secondo te le cose? Sarebbero andate malissimo perché io probabilmente Patrick non sarebbe qui fra noi adesso. In situazioni così emergenziali il tempo di scaricare il software per attivare la videochiamata diventa interminabile. Il sistema FlyMe utilizzato dal 118 dell'Emilia Romagna è invece immediato. Non è necessario scaricare nessuna app né prima né durante la richiesta di soccorso. La videochiamata è attivata direttamente dall'operatore 118. Un semplice sms. All'interno dell'sms troverete un link. Cliccando sul link si avvia il browser e si attiva lo streaming video. Tutto qui. Appena la mamma ha attivato la telecamera del telefono avevo già subito l'immagine del bambino con le mani del papà sul torace. Più veloce. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Per fortuna ho preso la frequenza giusta grazie a Daniele che mi ha dato il ritmo. È ovvio che il vedere, non essere presenti ovviamente, ma il vedere quello che succede pone una serie di correttivi importanti e pone comunque una serie di valutazioni che riusciamo a fare anche dalla centrale. Il colorito, la ripresa di battito, il guidare in modo preciso e puntuale ogni tipo di manovra che il papà in questo caso stava conducendo. Si pensa spesso che l'arrivo dell'ambulanza sia il momento salvifico, ma in realtà esiste un momento che è l'intervallo libero della terapia, che è il momento in cui ci si sganza dalla chiamata e il mezzo parte e arriva sul posto. Durante questo lasso di tempo noi insieme a chi dall'altra parte del telefono ci ascolta possiamo fare tante, tante, tante cose.